Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Aghezzo TV, sempre da Bibiano con Giuseppe Marconi. Ciao Fabio. Ben ritrovato. Respira. Respira, si cante qui l'aria pulita. Non riesca. È un'altra filzantina, è un'altra cosa. Senti. Quella fa che c'hai giù. Eravamo stati facili profetti le varie volte che eravamo stati all'ex mercato ortofrutticolo, dove più volte abbiamo sollevato noi la problematica di questa grande area che rischia di diventare una Lebole 2, più piccola, ma insomma il rischio c'è e che diventasse teatro di magari persone che non hanno dove dormire e quindi anche di degrado. Il caso è infatti arrivato in Consiglio Comunale, c'è stata l'interrogazione di Alessandro Caneschi del Partito dell'Evocatica, l'altro scatenato, ne ha fatte diverse. L'ho visto. L'ho proprio studiato. Ne ha fatte un sacco. Tra cui questa, in cui chiedeva controltre ai progetti di qualificazione dell'aria anche che intenzioni ha il Comune per controllare questo fenomeno. Perché dice che sono evidenti, stiamo vedendo delle immagini che abbiamo realizzato dove effettivamente ci sono i segnali di passaggio di persone che magari vanno lì e non si sa perché, se sono a dormire o a fare altro. E quindi insomma perché nel cuore, non dico dall'alto il centro, ma insomma nel cuore comunque di un quartiere di pescaiola molto popolato, questo fantasma dell'ex mercato dell'ortofrutticolo potrebbe diventare alla lunga un altro problema. Eh, d'altronde eravamo stati facili profetti. Perché avevamo fatto ciò, mi sembra un paio, due o tre servizi sul mercato dell'ortofrutticolo. Beh, sicuramente lì è saltato il progetto del Pius e del Polo Digitale perché le aziende non sono state intervenute e quindi adesso si sta cercando di trovare una soluzione alternativa. Non so a che punto sia il Comune nel cercarla. Niente, a questo punto qui, visto che comunque sia le cose allungheranno, perché allungheranno, perché i tempi per creare un nuovo progetto, per chiedere finanziamenti, saranno molto lunghi. Io penso che il Comune farà soltanto una cosa, cercare di mettere in sicurezza quell'area. Quindi fare in modo che la gente non c'entri, chiuderla per bene, ermeticamente, e aspettare poi i tempi migliori quando effettivamente si interverrà sull'area. Quindi si deve evitare in tutti i modi che la gente c'entri. E quindi i cancelli, visto come sono, si possono saltare tranquillamente. Non so se ci sono altri ingressi laterali, perché noi siamo stati soltanto davanti all'ingresso principale. E va fatto in modo che la gente non c'entri. Quindi, di conseguenza, mettiamo telecamere, verifichiamo anche che effettivamente poi, nonostante gli interventi fatti, non entri ancora nessuno. E poi aspettiamo che effettivamente l'area diventi di interesse di qualche programma, qualche progetto e poi intervenirci. È anche difficile ipotizzare cosa farci. Molto difficile. Perché, senti, le case ormai se ne è fatta a Iusa e poi ce ne sono tante in giro. E penso che il territorio l'abbiamo già devastato abbastanza con le costruzioni. Quindi penso che basti. Attività industriali in quella zona non se ne possono fare perché siamo dentro il quartiere di Pescaiola. Quindi mi sembra illogico poter magari fare attività per le quali escono fumi, rumori, in mezzo alle case. Visto che poi anche quell'area del Silos è stata poi fatta tutta urbanizzata, con tutte le abitazioni e così via. E niente, lì secondo me andrebbe trovato una soluzione per fare qualcosa di socialmente utile. Un'area socialmente utile che il quartiere di Pescaiola ne ha bisogno perché in effetti a Pescaiola è lì accanto, c'è quel campo di calcio che è della Tuscar aperto. Poi altre aree importanti in Pescaiola non ce ne sono. Sono l'ex, come si chiama, quello della fontana chiusa. Sì, l'ex Forobuario. Che lì hanno annunciato però una riqualificazione. Esatto, quindi potrebbe essere una continuazione del parco del Forobuario perché in effetti poi passando sotto la superstrada si arriva direttamente lì. E quindi vediamo di fare un progetto, potrebbe essere addirittura fatto anche un bel parco. Un parco? Un parco anche perché lì ci sono state fatte una marea di abitazioni, quindi c'è la meridiana di là, c'è l'ex zona del Consorzio Agrario di qua, quindi abitazioni ce ne sono tante e potrebbe essere fatto sicuramente un bel parco o un'area verde attrezzata, un centro sociale, insomma qualcosa di interesse pubblico. E comunque insomma è una patata bollente che questa giunta si è ritrovata perché diciamo ha avuto in eredità delle opere che poi sono state inaugurate da Ghinelli ma che erano state progettate e diciamo finanziate dalla precedente amministrazione. È arrivata in eredità anche però qualche progetto incompiuto come questo. Esatto, se no potrebbe essere anche una cosa, nella zona di via Alessandro Alborro e via Benedetto Coloscio mi sembra che manchino i parcheggi, facciamoci un bel parcheggio, perché no? A pagamento tu lo vorresti fare? Questo è logico. Non è logico. Poco, ma un poco è logico. Scusa, ma se io oggi, comune, faccio un investimento, è un po' di ritorno d'ambero. Ai commercianti di Pescaiola potrebbe andare bene questa cosa. Ma anche ai residenti, perché fai un bel abbonamento mensile con un pagamento minimale sicuramente potrebbe essere una soluzione. Bene, di parcheggi torneremo a parlare anche nelle prossime serie di un'altra zona, anche questo è stato sollevato in consiglio, ci vediamo domani. Ciao.